Sempre più stranieri in agricoltura, i dati dicono il 70% del totale dei nuovi addetti al settore, almeno nella provincia di Verona, un numero che supera a quota 18.000 unità. Per questo, per fronteggiare le difficoltà di comprensione legate alla lingua, Agribi, ente bilaterale per l'agricoltura scaligera, ha promosso la prima applicazione dedicata proprio al settore primario. L'obiettivo è insegnare non solo la lingua italiana, ma anche i termini relativi al contratto di lavoro per contrastare il caporalato e poi i diritti e i doveri, le regole e la sicurezza. Il problema è che nei corsi obbligatori per la sicurezza ci si può trovare davanti con 20 persone 10 lingue diverse, senza contare i dialetti. Direi che l'accoglienza nel mondo del lavoro può essere l'agricoltura. Presentato in prefettura, il progetto ha avuto pieno sostegno dall'Inail, che si occupa dell'assicurazione infortuni sul lavoro e che anzi ha sottolineato l'importanza di questa attività di prevenzione. Prevenzione è una diffusione capillare di una cultura della legalità e di informazione, perché molto spesso l'infortunio deriva da una, diciamo così, mi passa i termini, leggerezza, inconsapevolezza rispetto a ciò che si affronta. Perché uno che si taglia con la forbice elettrica un dito probabilmente non è stato istruito. In Veneto nel 2023 si sono registrati complessivamente 2000 infortuni in agricoltura, un terzo dei quali nella provincia veronese con quattro incidenti mortali. Lo Spisal, demandato alla sicurezza sul lavoro, insiste sulla formazione. Il problema grosso che riguarda proprio il comparto agricolo è proprio quello del ribaltamento del trattore, che è un problema che è ormai presente da decenni. E come si risolve? Le soluzioni ci sono, ci sono soluzioni tecniche, solo che spesso sono gli stessi coltivatori diretti che bypassano certe sicurezze. La fruibilità dell'applicazione potrà dunque limitare i danni se non risolvere del tutto il problema. Ci vorrà tempo ma senz'altro questo è già un primo passo.